Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti, buongiorno e benvenuti a Casa Rossini, ancora una puntata in diretta come ogni lunedì, mercoledì, venerdì. Ci piace ricordarlo ogni volta, anche perché qualcuno potrebbe vederci anche durante le numerose repliche. Ieri ho scritto in un post a orari per tutti gli orologi, perché ricordiamo che Casa Rossini va in onda il lunedì, mercoledì, venerdì, in diretta alle 10 del mattino, ma poi ci sono anche numerose repliche alle 16 del pomeriggio e alle 22 del giorno stesso, alle 15.30 del giorno successivo e poi, altra programmazione permettendo, una lunga maratona televisiva domenicale che riassume e rimette in sequenza tutte e tre le puntate. Insomma, può darsi che in questo momento ci stiate vedendo in altri orari, ma in realtà per noi, mentre stiamo trasmettendo, sono da pochissimo passate le 10 e appunto siamo in diretta con una nuova puntata che andremo a scoprire e che vi andremo a illustrare, tre ospiti. Anche oggi ne parliamo dopo, per adesso parliamo solo dei numeri per i nostri contatti, 351 708 9977 è il numero di WhatsApp per mandarci foto, ultimamente stanno arrivando anche delle foto, delle immagini, ma anche messaggi, vocali, perché no, segnalazioni, domande per gli ospiti, insomma, quello che preferite inviarci per mettervi in contatto con noi, approfittando magari proprio del fatto che siamo in diretta. Casarossini, chiotolarossinitv.it è l'indirizzo mail per lo stesso uso, praticamente se invece di WhatsApp avete disponibilità di un computer o di altri strumenti per mandarci la mail, insomma, il contatto con voi è possibilissimo ed è anche utile per partecipare al nostro sondaggio scherzoso, naturalmente, molto ironico, che noi proponiamo ogni mattina, ad ogni puntata. Il sondaggio di oggi è un sondaggio che tocca la nostra pelle nel vero senso della parola perché il sondaggio è tatuaggi, sì o no? Siete favorevoli a farvi o comunque al concetto del tatuaggio o siete contrari? Fatecelo sapere, noi daremo il risponso e poi comunque ricordiamo che i nostri sondaggi restano per 24 ore anche sulle storie di Instagram e di Facebook, per cui potete andare anche poi a votare lì, tanto è vero che poi nella puntata successiva noi raccontiamo gli esiti. Mercoledì avevamo proposto un altro sondaggio epocale, perché sono tutti temi divisivi molto importanti, cane o gatto? E vince il cane col 65%, il gatto invece ovviamente al 35%, strano perché poi l'avevamo lanciato proprio il giorno che era la giornata nazionale del gatto, mercoledì scorso il 17. Allora, oggi è il 19 febbraio, 50esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 315 giorni alla fine dell'anno e secondo Personology, che è il nostro librone nel quale andiamo ad attingere notizie curiose, è il giorno dell'esploratore. Non è nessuna giornata in particolare, voi sapete che ogni tanto è la giornata appunto del gatto, la giornata è oggi niente, ma domani, sabato, è la giornata mondiale della giustizia sociale, una ricorrenza internazionale celebrata a partire dal 2009, indetta dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per promuovere il tema della giustizia sociale a livello mondiale. Ricordiamo che in Italia, il principio riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, da non dimenticare mai. La Chiesa Cattolica celebra San Mansueto Savelli, che negli anni che vanno dal 672, non 1600, dal 672 al 681 è stato arcivescovo di Milano. L'episodio storico, l'evento storico sul quale ci siamo focalizzati è del 1878, in questo giorno, il 19 febbraio 1878, Thomas Alva Edison ha ottenuto il brevetto del fonografo, un dispositivo pensato per registrare e riprodurre il suono, lui l'aveva progettato un paio d'anni prima, ha creato la Edison Speaking Phonograph Company e l'idea era installarlo nelle fiere di paese, nei Luna Park, dove il pubblico avrebbe potuto farlo funzionare utilizzando dei gettoni. È molto curioso come gli è venuta l'idea, ricorderete che Edison era anche l'ideatore del telegrafo e il telegrafo, 40 anni dopo la realizzazione di questo telegrafo, lui aveva pensato di realizzare un disco per evitare che l'operatore stesse lì a ripetere dei messaggi ogni volta, magari ripetitivi, dei messaggi continuativi. E si è accorto che facendo girare questo disco velocemente usciva una specie di suono da questa puntina e si assomigliava, ovviamente senza significato, ma al suono di una voce umana. Da lì gli è scattata l'idea di utilizzare questo sistema anche per provare a registrare e riprodurre. È nato il fonografo e come è andata? Poi lo sappiamo tutti, visto che poi per molti anni questo è stato il sistema unico, il sistema del vinile poi, in realtà, perché dal cilindro si è passati al vinile, ma non la facciamo lunga. Il pensiero del giorno, se qualcuno vuole lo può andare a approfondire, il pensiero del giorno, qualcuno ha detto la prudenza, è la parte migliore del coraggio. A questo punto stiamo per scoprire il primo ospite, ringraziamo per lo studio, ovviamente per l'allestimento dello studio che vedrete fa un secondo, Gulliver e Tiziano Donzelli che presto ospiteremo qua con noi. E diamo il benvenuto al primo ospite, Nicola Baiocchi. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno Nicola, ci diamo del tu perché abbiamo questa frequentazione non recente e abbiamo deciso a livello proprio redazionale che le persone con cui mi do del tu nella vita continuiamo a utilizzare questa cosa anche in trasmissione, a meno che loro preferiscano il contrario. Nicola Baiocchi, consigliere regionale, attualmente consigliere regionale, ripercorreremo fra un attimo la storia, ma anche Nicola Baiocchi non si può sottrarre al nostro librone perché lui è nato il 28 febbraio, giusto? Esatto. Ci ho preso. E allora vediamo il 28 febbraio cosa dice dei nati il 28 febbraio il nostro librone. Il giorno dell'ardente entusiasmo, direi che insomma è un bel giorno, i nati il 28 febbraio sono contraddistinti da uno straordinario entusiasmo per la vita che trasmettono a tutte le persone che incontrano individui positivi e pieni di energia sanno ravvivare molte situazioni con il loro vigore. Non è male. Direi che non è male. Mario Andretti tra i nati lo stesso giorno, Mario Andretti indimenticato pilota, naturalmente ancora vivo, ma comunque indimenticato come pilota di origine statunitense, però origine italiana ma statunitense, ha vinto anche un campionato mondiale di Formula 1 nel 78. Gustav Teni, c'è poco da aggiungere al campione che ha rivoluzionato e ha interessato tutto il mondo alla pratica dello sci e Dino Zoff. Per cui insomma diciamo che ci siamo tra i pregi stimolante, vivo, ricco di personalità. I difetti non li leggiamo più da qualche settimana, per cui li abbiamo lasciati lì e va bene. Potevi tranquillamente dire. Ma no, non ci serve diciamo, perché in questo momento noi vogliamo dare l'immagine complessiva e ci piace insomma giocare con questa introduzione, con questo libro, nome di origine greca, Nicola, vincitore del popolo, vuol dire, sapevi? No. Vedi? Quante cose nuove, sì. A praticare il salotto di Casa Rossini. Allora, consigliere regionale, già candidato sindaco 2019, di conseguenza già all'opposizione e poi con le elezioni regionali si ritrova invece in maggioranza, membro della prima commissione bilancio affari istituzionali, istruzione e cultura e membro della quarta commissione sanità e servizi sociali, nonché membro dell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale degli enti locali. Insomma, un bel pacchetto di cariche. Troppe. Avvocato, ce la facciamo? Troppe. No, no, ce la facciamo sì, però secondo me è anche molto importante capire in relazione all'evolversi di una carriera politica o nel lavoro o comunque in tutte le attività di capire quando è il momento di lasciare qualche incarico e darlo a persone che sono assolutamente alla stessa sua altezza, tua altezza se non di più. E quindi non sono un grandissimo fautore di collezionare cariche, anzi ho un incarico molto importante in regione, molto complesso e molto stimolante chiaramente, che sto cercando di fare nel miglior modo possibile e dedicandoli tutto il tempo possibile, compatibilmente con la famiglia e con il lavoro, perché ancora comunque svolgo la professione di avvocato. Quindi le cose sono tante, ma si cerca sempre di farlo nel miglior modo possibile. La domanda che mi è venuta subito quando ho visto questo esito delle elezioni, che rivolgo adesso a te perché sei qui con me, è relativa al discorso del passare all'improvviso, trovarsi, diciamo pure all'improvviso perché comunque questo è stato il passaggio, da un ruolo di opposizione a un ruolo di governo, un ruolo di maggioranza, che non è solo sedersi da una parte o dall'altra, ma è tutto un carico di responsabilità legato a quello che c'è l'indacciante dei confronti ovviamente della maggioranza, diventa anche forse facile riuscire a farsi notare o comunque a proporre delle cose che forse si sa che poi restano lì e restano cose dette. Adesso è ora di invece rimboccarsi le maniche e dire cose che poi c'è il, la dico con tutta l'ironia possibile, il rischio che vengono anche fatte. Sì, la tua è un'osservazione giustissima, nel senso che da un lato stare in minoranza è sicuramente più semplice perché il tuo lavoro è quello di controllare, di verificare, di sollecitare l'amministrazione e di evidenziare le cose che non vanno e anche se un'amministrazione può essere più o meno brava c'è sempre qualcosa da trovare e da evidenziare. Chiaramente entrare in maggioranza è da un lato una soddisfazione bellissima perché dopo tantissimi anni la Regione Marche è stata conquistata da una coalizione di centrodestra con un risultato poi molto importante, però adesso sei forza di governo e quindi a tutti gli effetti devi fare, devi risolvere i problemi, devi gestire una situazione come tu ben sai difficilissima perché l'emergenza Covid indubbiamente sta necessariamente influenzando per forza io poi in Commissione Sanità, Commissione Bilancio, quindi due commissioni che sicuramente sono fortemente interessate da questa pandemia. Però è proprio nei momenti difficili che si vede l'operatività di una giunta, l'operatività e la compattezza di una maggioranza e cercare di risolvere i problemi nell'interesse di tutta la comunità, sia di quelli che ti hanno votato ma soprattutto per quelli che non ti hanno votato, che confidano comunque sia in te e quindi è un ruolo molto bello, molto importante ma anche molto stimolante. A proposito di quelli che ti hanno votato, diciamo che c'è una pattuglia di pesaresi bella sostenuta che ti aveva votato come candidato sindaco e che non molla l'osso però e che ti cerca ancora per cose che hanno a che fare con la città anche perché mi hai detto che comunque non è che a questo punto la città è dimenticata. Un commento perché poi arriviamo a uno dei punti per cui ti cercano. Chiaro che a prescindere che il mio bacino elettorale è stato a Pesaro, il mio collegio è un collegio provinciale però io devo sempre mantenere la disponibilità con gli elettori, con le persone, con tutti i cittadini per le esigenze importanti della città e lo sono sempre stato disponibile prima e ancora di più lo sono adesso. E adesso ti cercano per le silicate, ma com'è sta storia delle silicate? Questo sembra quasi una barzelletta nel senso che io nel 2019 poco dopo insediata la nuova amministrazione presentai un'interrogazione in consiglio comunale perché dopo gli innumerevoli incidenti che erano successi su quella strada, tantissimi morti, tante famiglie, personalmente conosco il padre di una ragazza che è stato coinvolta in questo grossissimo incidente. Quindi ho pensato di dare il mio contributo affinché si potesse cercare di che l'amministrazione spingesse ANAS a trovare una soluzione legata alla sicurezza, anche perché erano anni, tanto tu insedi che quella è una strada che purtroppo ha visto tantissimi morti, tantissimi incidenti. Quindi volevo dare il mio contributo di stimolo in relazione a questa cosa e io non lo nego perché non mi piace dire le cose che in realtà non sono vere, suggerì anche l'ipotesi di valutare il discorso dei New Jersey. Perché? Perché vedendo le dinamiche di questi incidenti che quasi sempre sono avvenuti per uno sconto frontale, per uno sbalzo di corsia, un cambio di corsia e quindi quella poteva essere la soluzione. Chiaramente la mia proposta in consiglio comunale era quella di valutare, perché chiaramente faccio l'avvocato, non faccio il tecnico di ANAS, non faccio l'ingegnere, quindi non sono io a dover dire qual è lo strumento da utilizzare. Fu quello di cercare di suggerire questa soluzione ma per la parte che va giù verso Colombarone, non per la prima parte iniziale, dalla BMW fino in cima alle silicate. ANAS dopo ha fatto delle valutazioni sue, spinta anche da forti pressioni che derivavano giustamente in criterio generale anche dalla prefettura di Pesero Rubino, sicuramente anche dai familiari di tante vittime che sono successe e adesso sta predisponendo questo intervento. Importante dire che questo intervento è stato concordato, se non concordato, almeno mostrato all'amministrazione comunale, anche nell'ultima riunione che è venuta un mese e mezzo fa, due mesi fa, alla presenza del Consiglio regionale di Pesero, del sindaco, dell'assessore Belloni di tutti, dove giustamente il Comune di Pesero ha chiesto dei correttivi ad ANAS. Questi correttivi sono stati accettati, così ANAS mi ha detto, e verranno predisposti altri due rotatori. Adesso c'è una, chiamiamola sommossa popolare, le persone sono molto arrabbiate, molto preoccupate dell'installazione di questi New Jersey, anche legato molto importante alla questione ambientale, ambientale del parco, degli animali, quindi dei corridoi ambientali. Quindi adesso si sta cercando di trovare una soluzione. Mi sono recato ad ANAS, in Ancona, fortunatamente siamo anche vicini, e ho cercato di chiedere l'UMI per cercare, perché da un lato devono essere contemperati due interessi, uno fondamentale che è quello della sicurezza e della vita delle persone. Dall'altro lato, come ho sempre sostenuto sin dall'inizio, l'esigenza dei cittadini, chiaramente, dei residenti, di coloro che devono entrare all'interno delle abitazioni. Quindi si deve cercare una via di compromesso che permetta di salvaguardare tutto. Però in sintesi, quello che è successo è che praticamente alcuni attaccati da tutti i residenti della zona hanno detto che la colpa di installazione era la mia. Capito? Come se avessi il potere di andare dai dirigenti di ANAS e dire mettete su un New Jersey per un chilometro e mezzo, cosa che chiaramente tutte le persone, chi è persone che mi conoscono e che sanno un po' come vanno queste cose, sa benissimo che non è vero. Si sono rimasto un po' male, perché scaricare le colpe sugli altri non è mai stato nel mio carattere un modo di fare assolutamente. Tra l'altro adesso non è che si capisca tantissimo, transitando lì, com'è la situazione, non entriamo nel tecnico perché è abbastanza spero. No, però la situazione adesso, questo ci tengo a dirlo, perché almeno tante persone, questa è una situazione ANAS che mi ha detto che è assolutamente provvisoria, non sarà quella la... Ok, l'ho immaginato anch'io perché ridurre a una corsia... No, assolutamente no, però anch'io ho voluto sentirlo direttamente dalle loro parole. Certo. Allora, piano vaccinale è partito? Sì, è partito e... Cioè parte il 20, no? Sì. Domani? Sì. Sono partite le prenotazioni? Parte il 20, il numero di prenotazioni è stato elevatissimo, le strutture sono pronte, dobbiamo sempre ringraziare gli operatori sanitari, ASUR per l'organizzazione, l'assessorato all'assessorato alla sanità e chiaramente è un'altra prova importante, avendo fatto prima lo screening di massa sicuramente ci ha aiutato in questa organizzazione anche logistica per capire bene qual è il modo migliore di affrontare questo problema, partiamo veloci, spediti, purtroppo si è perso un po' di tempo indipendentemente dalla regione, quando tu sai, si sono bloccati i trasporti, la somministrazione di vaccini, quindi adesso... C'eravano tutti un po' preoccupati con il fatto che le Marche ancora non avevano neanche fissato una data, no? Sì, sì. Le altre regioni ostentavano chiaramente la situazione delle date, le Marche ancora, no? E allora a quel punto lì dice, come perché? Adesso la data è stata fissata. Sì, si partirà sicuramente in maniera molto veloce, si cercherà di arrivare subito in base alle categorie che sono state scelte, come tu ben sai, prima sono stati fatti gli operatori sanitari, poi ci sono gli ultra-ultatenni, poi c'è... Sì, posso confermare che la modalità di prenotazione io l'ho fatta per mio padre ed è efficace e veloce, almeno io l'ho fatta tramite computer, non ho fatto la chiamata al numero verde perché ho preferito l'altra modalità, però devo dire, almeno sul mio episodio particolare, che insomma è stato veloce ed efficace. Adesso poi fra qualche giorno andremo, mi sembra il 2, martedì, andremo e riferirò anche di come è andata e come sta Babbo Carlo. Anche perché se ci sono dei suggerimenti o degli accorgimenti bisogna sempre essere pronti a metterli in campo. Per curiosità è stato fatto un piano numerico, cioè di questo passo quanto ci vuole a vaccinare la prenotazione? Allora, bisogna un attimino, è difficile fare una valutazione perché sicuramente in regione hanno fatto un programma, una roadmap, bisogna vedere se ci saranno degli imprevisti, però sicuramente le valutazioni fatti a livello di Azure, perché ne abbiamo parlato anche l'altro giorno in Commissione Sanità, sono molto chiare, molto precise, sanno veramente il numero degli anziani, sanno qual è il numero. Adesso è importante che ieri, c'è stata proprio ieri una riunione con i medici di base, con le categorie dei medici di base, per chiudere questo accordo che permette anche ai medici di base avere un ruolo molto attivo più che in questa fase, nella fase successiva dove ci saranno le criticità e fragilità, le persone molto depresse, diabetici, oncologici e tutte persone che hanno assolutamente bisogno di questi vaccini e dovremo farli nel minor tempo possibile. Certo, speriamo insomma che vada bene come è iniziato, proviamo a cambiare l'argomento, parliamo di turismo un pochino, l'internazionalizzazione che è un altro tema molto molto caldo e molto particolare sul quale c'è molta attenzione, io sto ospitando molti sindaci qui a Casa Rossini e i sindaci esprimono comunque tanta voglia di far conoscere il loro comune e stanno cominciando a capire anche questo meccanismo, l'importanza di questo meccanismo della ricerca dei fondi che arrivano ovviamente con l'interfaccia regionale e per cui l'interlocutore del comune in questo momento sulla ricerca fondi per la valorizzazione, i beni culturali, tutto quello che è, passa attraverso la regione, la regione è ben posizionata anche come interfaccia nei confronti della provenienza originaria dei fondi, Europa, governo italiano, insomma così? Sì, allora è un canale aperto insomma. C'è un canale aperto e è un tema costantemente all'ordine del giorno, sia perché la delega al turismo se l'è tenuta il presidente, pertanto per farti capire quant'è l'importanza che lo stesso dedica a questa materia, alle potenzialità economiche a livello di PIL, a livello di tutto quello che può portare nel territorio marchigiano e c'è anche proprio come dici tu una forte attenzione anche alle piccole realtà, alla possibilità della promozione a livello territoriale forte di questo splendido territorio che è la regione Marche, quindi si investirà tantissimo secondo me sia a livello di tempo che a livello economico e tant'è che ti dico che è stata in fase di creazione l'agenzia per il turismo e per l'internazionalizzazione. Questa è una struttura nuova ad hoc, non deve essere un carrozzone, deve essere una struttura dinamica, veloce, con professionalità per cercare di sviluppare in maniera veramente molto importante il turismo. L'assessore Giorgio Alatini che invece si occupa di cultura, sta a cultura, sport e altre materie e sta anche lei cercando di sviluppare nei territori tutte quelle operazioni che possono essere utili e di supporto ai comuni. Naturalmente con un'attenzione speciale all'annoso problema, ma che in realtà più che un problema secondo me è un tema del collegamento tra costa e introterra. Problema enorme, anche nel programma elettorale del quinquennio di questa coalizione si è data molta importanza a questo tema, quindi non un ruolo di competizione costa e introterra, ma una sinergia che può essere assolutamente fruibile tra sia le esigenze della costa che l'esigenza dell'entroterra, ma le potenzialità che ha una costa rispetto a un'entroterra, quindi tutto il tema legato all'inagostronomia, ci sono tantissime cose che possono essere sviluppate. Sì, vedo anch'io da parte dei sindaci e delle amministrazioni un particolare entusiasmo e voglia di, veramente, sarà anche questa questione legata al Covid che tutti hanno voglia di ripartire e di rimettersi in gioco e c'è una forte attenzione. Bene, mi sono segnato un paio di domande, scomode se vogliamo. Allora, perché la Regione non è d'accordo con questa cosa dei tamponi che sono avanzati e che il sindaco Ricci vorrebbe utilizzare per fare degli screening nelle scuole? Allora, la posizione non è proprio così, non è proprio corretta. Ci sono dei problemi, diciamo, anche amministrativi, mi ha spiegato proprio anche il direttore generale di Asuro, perché chiaramente prima di parlare mi piace avere anche dei riscontri tecnici. Io dall'altra parte facevo la domanda del popolo. No, no, certo, certo. Da un lato ci sono dei problemi tecnici e amministrativi, non c'è nessun tipo di contrapposizione tra la Regione e la città o in nostra provincia. Pensa a te che, ad esempio, ci sono quattro consiglieri della provincia di Pesaro Urbino, tre assessori, probabilmente siamo tra le province più rappresentate. E pensate voi se dovessimo mai andare a porre interessi di partito o contrapposizioni ideologiche poi su tematiche così importanti. La posizione del sindaco Ricci io non la condivido, ma la condivido soprattutto anche nell'ottica, parlandone anche con l'assessore alla sanità, che adesso tutto il personale, tutta l'attenzione nostra deve essere incentrata sui vaccini. E quindi dobbiamo andare avanti su questa linea. Ma questi tamponi sono veramente avanzati? Io non ho capito questo. Allora, se mi chiedi quanti tamponi sono avanzati, non lo posso sapere. Chiaramente quando sono state fatte le ordinazioni, sono state fatte su quantitativi molto importanti e saranno utilizzati per tutto quello che serve. Però rifare nuovamente uno screening così nelle scuole, non so quanta utilità possa avere, se non ripetuto ciclicamente nel tempo. Perché sappiamo benissimo che poi i ragazzi nei weekend, giustamente, escono, purtroppo non riescono sempre a mantenere le opportune distanze e a seguire tutte le varie procedure. Quindi sarebbe un procedimento ciclico. Il personale non c'è. Se lo screening diventa monitoraggio, questo potrei interpretare quello che mi stai dicendo, se lo screening diventa monitoraggio e ci fosse la possibilità di farlo come monitoraggio sviluppato nel tempo, allora sì, altrimenti rischia di essere una fotografia e basta. Invece l'ospedale unico, questo ospedale che secondo molti è stato in qualche modo denominato male, perché l'idea dell'unico fa pensare che è l'unico e il resto non c'è più niente. Invece forse ci si sta rendendo conto che era l'ospedale principale, non unico, da portare avanti come tema. Sti milioni di euro che saltano da una parte all'altra. La dico malissimo come arriva a uno che guarda la televisione ogni tanto. Perché poi, sai, chi si intende, i supertecnici, eccetera, sanno già tutto. Però c'è un po' di gente che guarda la televisione, ascolta uno speciale, dà un'occhiata a un titolo di un giornale, eccetera, non ci capisce niente. La Regione che posizione ha nei confronti di quest'idea dell'ospedale, il famoso ospedale di Muraglia? La Regione ha un'idea molto chiara, che sono state poi le motivazioni che hanno spinto a scrivere nel proprio programma elettorale determinate cose. Quindi noi, gli ospedali unici, sia una ridistribuzione territoriale dei nosocomi, che non vuol dire che in ogni comune ci deve essere chiaramente un ospedale. Deve essere razionalizzato il sistema. Il presidente Acquaroli ha incaricato l'assessore Salta Martini, per quello che riguarda la programmazione, e l'assessore Francesco Baldelli, per quanto riguarda le strutture sanitarie, a censire e rifare un nuovo piano, per poi riportare tutto all'interno del nuovo piano sanitario, che sarà sicuramente improntato a breve, che dovrà delineare un modello di sanità sicuramente differente. La gente ci ha votato anche per questo. Allora, l'ospedale, chi è che ha cambiato il nome? Non siamo stati sicuramente noi. Se tu vuoi rivedere i giornali di tanti anni fa, l'ospedale è sempre stato denominato ospedale unico. Dopo a livello strategico si sono accorti che era meglio cambiare il nome, mettere l'ospedale nuovo, sostanzialmente non cambia, perché l'ospedale unico, nuovo, chiamalo come ti pare, che aveva in mente questa, la vecchia maggioranza, era quello di un ospedale con 600 passaposti letto, con una struttura enorme su muraglie, quindi non è che la regione non vuole portare avanti questo progetto, c'è una linea diversa, che è quella di un ospedale nuovo, in questo caso lo possiamo dire noi, un ospedale nuovo, magari più piccolo, magari con dimensioni differenti, ma che dia una garanzia alle persone della costa, e noi viviamo una città della costa, ma anche ci siano delle garanzie importanti per tutte le persone dell'entroterra, perché hanno il diritto ad avere le garanzie costituzionali, poi, della salute e al pari delle persone. Possiamo rassicurare i telespettatori che i famosi 106 milioni non vengono persi, non vengono persi, e poi si è presa una posizione forte su quale era lo strumento finanziario per concepire l'ospedale, quindi il project, e su questo la regione non ha dubbi, quando si farà l'ospedale si utilizzeranno soldi pubblici, non si utilizzerà lo strumento del privato. Sicuramente sono talmente tanti anni che andiamo avanti con questa storia dell'ospedale, adesso mi fa sinceramente un po' sorridere che vengono evidenziati da miei colleghi, adesso di minoranza, operazioni e situazioni che fino a due mesi fa andava tutto bene, adesso praticamente non c'è più nulla. Il gioco dei cappelli di cui parlavamo prima. Scherzavamo sul fatto che tu a Pesaro comunque rappresenti l'opposizione, poi vai in regione, sei maggioranza, adesso addirittura a livello nazionale sei l'unico nell'opposizione, insomma ogni tanto ho un disorientamento. Quando parlo ogni tanto devo ricordarmi dove sono, se sono in opposizione o in maggioranza. Certo è, questa è una cosa a cui tengo, ci danno tutti insomma. Però ti assicuro, hai capito che avendo vissuto anche la minoranza, quando ti ritrovi a governare, ti dicevo è molto bello, è molto complesso, ma dà anche molta soddisfazione. Sicuramente è un pochino più difficile abituarsi al contrario. Siamo in chiusura, una curiosità mia, tu sei avvocato, aiuta insomma una formazione, io sono lavorato in legge nel mio piccolissimo, ogni tanto qualcosa in più forse dal telegiornale capisco, quando senti dire castronerie reiterate a fini elettorali, come per esempio un presidente del consiglio non votato, e noi sappiamo benissimo che, che effetto ti fa, soprattutto quando lo dicono magari qualcuno? Allora, queste secondo me sono un po' anche le distorsioni del mondo social di adesso, perché ormai si è arrivati, che ognuno quante fake news vediamo quotidianamente. Sì, sicuramente la professione, lo studio che ho fatto mi aiuta, mi aiuta tanto, però è uno studio continuo, perché ci danno plichi di delibri, di documenti da studiare, da informarsi, e non bisogna mai essere soddisfatti, anche perché Commissione Sanità, tu immagina c'è tutta la dislocazione regionale della sanità, sanità e servizi sociali, perdonami perché è un'altra parte importantissima, è un'altra parte importante interessante, e sono tematiche che se tu non studi, non ti informi, non capisci quali sono le dislocazioni territoriali, la macchina amministrativa in generale, non puoi bilancio ancora di più, perché immagini il bilancio di una regione, tutte le varie sfaccettature, molto stimolante, non si finisce mai di studiare. Bene, se avessimo avuto un po' di tempo in più, potevamo parlare anche di questo rapporto, che comunque continui a mantenere con la città, diciamo una per tutti, il San Benedetto, è particolarmente, come si dice con questa parola bruttissima, attenzionato in questo momento, però veramente non abbiamo tempo, per cui a questo punto, sai cosa facciamo? Ci diciamo che ci rivediamo. Magari. Non è stato facile averti, devo dire la verità, perché immagino che gli impegni non siano solo... Non è sicuramente per scarsa attenzione o altro, purtroppo sono sempre giù in regione, il fine settimana sono spesso a peso sul territorio, tornando a quel discorso che dicevi te, quindi sono a disposizione, se ci prendiamo un po' di tempo, un margine per fissare, facciamo subito. Mi giro verso Allegra, allora segnatelo, che il consigliere Nicola Baiocchi tornerà, a raccontarci degli sviluppi, di tutto quello che abbiamo in qualche modo appena solo accennato questa mattina. Allora, noi siamo a chiudere questa prima parte, stiamo per andare in pubblicità, quando si va in pubblicità non devo aggiungere nient'altro, vero? Per cui non ho... Io mi giro, c'è Allegra, Allegra D'Angelo, la nostra segretaria di redazione, efficientissima, nonché memoria del programma, e visto che la mia ormai fa acqua da tutte le parti, ancora grazie a Nicola Baiocchi per essere stato qui con noi, appuntamento con lui a una prossima volta, con voi a fra pochi minuti, restate con noi, perché adesso andiamo in pubblicità, e poi andremo con il secondo ospite della giornata, Antonino Di Gregorio, ci vediamo fra pochi minuti. Grazie ancora dell'invito, grazie. Grazie, grazie. Eccoci allora, e siamo qua dopo la pubblicità, con il preannunciato Antonino Di Gregorio, ciao Anto. Buona giornata, grazie per avermi invitato di nuovo, sono sempre contento di venire a trovarti. E tra l'altro te porti la primavera, perché arrivi in maglietta, arrivi in maglietta, come è uscito un raggio di sole, e non fa meno sette, e te automaticamente... Oggi ci saranno 16 gradi, è giusto, è giusto, è giusto, è giusto. Antonino Di Gregorio, amico personale e amico del pubblico ormai di Rossini TV, nonché amico anche di tutti quelli che seguono le iniziative, le pagine di peso della città che legge. Ma noi lo definiamo sempre con la scritta sotto pancia, consulente editoriale e con... Parole d'arancio, che poi è l'associazione con la quale mi definisco. La tua specifica, esatto. Sì, poi una volta magari diremo perché parole d'arancio. Spiegheremo perché parole d'arancio. Della data di nascita e del nome ne abbiamo parlato l'altra volta, questa la saltiamo. La saltiamo. Ne riparliamo quando torni la prossima volta, così in modo da creare un po'. Così abbiamo un'altra cosa da dire. Esatto, esatto, esatto. Sei stato già con noi il 25 di gennaio, ma sei stato anche a dicembre, stiamo cercando, come hai notato, di creare un appuntamento almeno mensile per parlare di libri sostanzialmente. Eccoli! E' di questo che parliamo, arredamento, arredo di interni attraverso i libri. Ah, tra l'altro, tra parentesi, quando ci siamo lasciati, appunto si parlava un po' del com'era andato il periodo natalizio, prosegue un po' l'attenzione nei confronti della lettura da parte appunto del pubblico e dei lettori, o sei un po' fermata dopo lo slancio natalistio, così, come va? Allora, questa è una domanda ciclica, diciamo così, passami il termine, nel senso che comunque gennaio, per un po' tutto il commercio, e quindi le librerie, il settore dei libri, non fa eccezione a questa regola, è il momento che viene definito grigio. E infatti non ho portato nulla della classifica quest'oggi, perché qualcuno di questi lo vedremo probabilmente settimana prossima in classifica. Grazie anche alla puntata. Certo, perché tutti quelli che ci guardano andranno subito in libreria, e andranno a comprare tutti questi libri, almeno uno per, e la classifica si muove poco rispetto alla fine di dicembre, perché comunque gennaio è un mese in cui normalmente le persone comprano di meno, e infatti c'è anche il famoso Blue Monday, no, a gennaio. E quindi questa cosa è un po' così. Sicuramente la tendenza, come dice qualcuno, la tendenza al fatto che dobbiamo rimanere molto più spesso a casa, ci porta a leggere un po' di più rispetto a quello che eravamo abituati fino a due anni fa. Statisticamente ovviamente non si guarda mese per mese, però il confronto già a gennaio 2021 su gennaio 2020 è positivo, perché a gennaio 2020 non era ancora successo il pandemonio che è successo dopo. Certo, certo. E quindi gennaio 2021 si è eletto di più che gennaio 2020. Però io spero che si legga sempre, sinceramente. Esatto, esatto. Anche perché uno dei discorsi che facciamo sempre io e te è se uno leggesse semplicemente dieci pagine, quindici pagine al giorno avrebbe letto un libro ogni mese almeno. Ah, sicuramente. Allora, veniamo ai libri? Sì, io direi di sì. Li ho divisi un po' per genere, nel senso che qua ho messo i thriller, qua ho messo le novità italiane e qua ho messo un po' lo spettacolo. Partiamo però da quello che è piuttosto particolare e ne abbiamo già parlato una volta ma l'abbiamo solo citata. Allora, ti ricordo che se te fai così la giusta casa dopo un po'. Così, giusto, hai ragione. Vieni in mal di mare. Vieni in mal di mare devo tenere il libro fermo. Bravo, bravo. E abbiamo già citato una volta l'autopubblicazione. Ah ah. E parto con un libro autopubblicato da una persona che è nata nella nostra provincia che si chiama Alessandro Lavanna. Appena arrivato in libreria, anche se autopubblicato, così sfatiamo un altro mito, che i libri autopubblicati non possono essere venduti in libreria. Sì, possono esserlo anche loro. Basta che chi se li autopubblica li porti in libreria, nelle librerie dove vuole che il proprio titolo venga venduto. The Heart of Rebel poi sui titoli non diciamo la nostra perché ognuno fa quello che vuole e soprattutto se è un libro autopubblicato. Certo. È la storia di un uomo al quale è cambiata la vita dopo che gli sono accadute diverse cose nella vita. E ha fatto partire un suo profilo Instagram che è abbastanza seguito visto che è appena nato e dove racconta le storie che racconta poi anche nel libro magari con degli aforismi o magari con delle fotografie. Mi è piaciuto portarlo perché è uno dei libri della nostra zona e quindi perché no visto che siamo in una tv che parla della nostra regione che è attenta alla cronaca locale eccetera eccetera perché non parlare degli scrittori locali. e quindi Alessandro Lavanna di Heart Over Ibel è uscito e lo trovate nelle librerie. Tra l'altro mi ha contattato neanche a fare rapporto non c'eravamo messi d'accordo mi ha contattato ieri perché sapendo sapendo no sapendo che io ho questa frequentazione sono stato uno dei primi a pubblicare con Bertoni Editore e che adesso invece sono in tanti a Pesaro e si è sparsa la voce della qualità appunto di Bertoni Editore mi ha chiesto se c'era la possibilità di contattare la casa editrice cosa che ho fatto all'istante per cui chissà che dall'autopubblicazione non si passi alla pubblicazione vera e propria di questo libro. Che è sempre un salto no? Certo. Poi anche su questo argomento se vuoi una volta facciamo una se mi inviti un'altra volta facciamo una puntata a tema perché questa cosa è una cosa della quale si parla troppo poco secondo me si tende a sminuire l'autopubblicazione quando invece forse io e te ce lo siamo già detti mille volte ma forse non molti ricordano che anche Pasolini primi se li ha autopubblicati ed è il signor Pasolini e quindi magari l'autopubblicazione c'è da ragionarci esatto e poi soprattutto ne parlavo anche ieri con altre persone a volte i buoni scrittori non arrivano alla grande diffusione semplicemente perché non sono abbastanza letti ma il passaparola è ancora un buono strumento quindi quando leggete e qua mi rivolgo al pubblico quando leggete un buon libro parlatene perché così almeno altri lo leggeranno esatto esatto quando leggete un buon libro parlatene va bene voleva farsi un po' l'ultima vita del signor Paolo Paglini è stato un bel libro farò una puntata apposta monotematica la vengo a condurre io allora quella visto che come sai come non ho mai negato il tuo libro mi è sempre tanto piaciuto benissimo te lo sai che se andiamo avanti così ne leggiamo tre adesso vado velocissimo Alessio Torino al centro del mondo lui è un'altra persona della nostra zona perché lui è urbinate credo sia nato a Cagli per l'esattezza ma insegna all'università di Urbino e questo è il suo primo libro per mondadori e appunto come dicevo al centro del mondo tra le altre cose sarà mio ospite sulla pagina di Pesaro città che legge martedì 22 alle 19 il libro io di Alessio dico sempre questa cosa lui è stato uno bravo nel senso che per esempio c'è Urbino Nebraska che è il suo forse oggi il titolo credo più di più venduto è uscito qualche anno fa per Minimum Fax che ha reso appunto Urbino e comunque la terra intorno a Urbino come se fosse il Nebraska e quindi questa questa cosa qua è una bellissima operazione su questo libro cerca e comunque riesce secondo me a fare più o meno la stessa cosa a rendere la provincia un archetipo un luogo che è un luogo dell'anima e non solo un luogo fisico quindi al centro del mondo Alessio Torino Mondadori io ho conosciuto un po' di anni fa quando aveva pubblicato Tina se non sbaglio e l'avevo anche intervistato per una radio pensa a te ti avevo anticipato sul lavoro adesso andiamo avanti meno dice altro andiamo avanti qualcosa no forse forse no guardando gli altri facciamo che allora visto che ci sarà non riuscirò a parlare di tutti vi parlo di questo che è invece è molto particolare Federico Baccomo anche lui pubblicato da Mondadori e che cosa c'è da ridere questa è una storia affascinantissima anche lui sarà nostro ospite sulla pagina di Pesaro Città che legge alla fine di marzo è un libro pazzesco racconta di un uomo questa trae spunto da un fatto realmente accaduto di un uomo che faceva cabaret all'inizio del novecento e quando è successo ciò che è successo durante la seconda guerra mondiale cioè quindi i campi di concentramento è stato chiamato da i gerarchi chiamiamoli così o comunque non mi ricordo come si chiama gli ufficiali delle SS quelli che governavano i campi di concentramento a intrattenere le persone che lavoravano all'interno dei campi di concentramento e ovviamente il protagonista è un ebreo quindi un ebreo deportato in un campo di concentramento visto che nella sua vita faceva il cabarettista e allora facce ride ragazzi incredibile questo libro e quindi Federico Bacomo che cosa c'è da ridere Mondadori andiamo veloce mi infilo un attimo mentre respiri per dire che il fatto che citiamo Pesaro Città che legge non è semplicemente un riconoscimento all'attività che viene fatta appunto da questa attribuzione alla città ma è anche perché Rossini TV è una delle firmatari del patto di Pesaro Città che legge patto per la lettura e la diffusione del libro e questo ci tenevo a sottolinearlo non a caso il logo che abbiamo posizionato dietro le spalle di Antonino è il logo ufficiale che ci è stato assegnato come Rossini TV come Rossini TV e alla città questa come hai detto tu questo riconoscimento da parte del CEP il centro per la lettura e il libro e la lettura del ministero per i beni pubblici e le arti e il turismo mi backed giusto? esatto ok allora visto che come dicevamo prima non avremo il tempo di parlare di tutti ne scelgo due tre a caso questo è uscito l'altro ieri e quindi non potevo non citarlo perché è uscito l'altro ieri e non l'ho ancora letto però l'ho portato lo stesso in trasmissione lo leggerò sicuramente perché mi incuriosisce non è il suo primo libro però qui racconta qualcosa di diverso racconta nel primo libro che quello che era uscito qualche anno fa raccontava della sua infanzia qui invece racconta il suo approccio al mondo dello spettacolo e quindi racconta un po' di aneddoti e quindi le cose che chi guarda la televisione chi l'ha seguito come attore come cabarettista come regista probabilmente aspettava di più certo quindi adesso ci degli aneddoti gustosissimi l'ho visto in dei frammenti ospite appunto credo da Fazio qualcosa del genere e quello che racconta insomma ovviamente fa parte della storia della nazione tutta non è che sia solo una roba sì credo che lui sia uno dei grandi può piacere può non piacere ma comunque ha fatto la storia dell'intrattenimento italiano quindi Carlo Verdone La carezza della memoria Bonpiani editore altro libro che non potevo non portare perché è abbastanza attuale magari è passato qualche giorno però è abbastanza attuale l'autobiografia del primo vicepresidente donna degli Stati Uniti soprattutto credo primo vicepresidente donna no forse c'era stata già la signora Clinton che era stata vicepresidente non mi ricordo va bene comunque lei ha fatto ha fatto parlare di sé e e ne farà parlare ancora io ho le mie tesi in merito ma non le diciamo adesso comunque è un libro da leggere per scoprire perché una persona che in Italia quantomeno non era così tanto conosciuta è arrivata a ricoprire la posizione numero due della della Repubblica che nel mondo occidente viene considerata più importante tra l'altro con appunto grandi attenzioni da parte di tutta la politica internazionale all'idea che potrebbe essere lei la nuova candidata per la successione di Biden sì secondo me anche molto molto velocemente certo Kamala Harris le nostre verità la nave di Teseo poi visto che ho parlato di VIP di televisione eccetera questo è un è un omaggio per te un amico Nino Frassica esattamente lui è un omaggio per te e anche questo è un libro molto carino uscito da pochissimo per Inaudi Stile Libero Nino Frassica e il titolo è VIP questo non riesco neanche a pronunciarla questa parola tutta la veritane che sarà una delle sue parole inventate le parole inventate di Frassica meravigliose e qui lui racconta ovviamente una cosa che è divertentissima nel senso che per la maggior parte delle persone che guardano la televisione che guardano lo spettacolo dagli anni 80 in poi Nino Frassica è considerato una delle persone note dell'intrattenimento italiano e lui però non si vuole considerare un VIP con due P e qui racconta i suoi incontri con i VIP quelli che lui considera davvero VIP e quindi ci ha scritto questa cosa ed è divertente perché parla degli incontri con Terence Hill d'altro canto lui lavora con Terence Hill da una vita su Don Matteo su quella serie che è lunghissima di Gianni Morandi di Totti e parla di un sacco di persone che lui ha conosciuto nella sua vita grazie al suo status di VIP nel quale non si riconosce però intanto li ha conosciuti e quindi ci racconta questi aneddoti è divertente anche per questo chissà se in qualche parte ci sono anch'io dai è certo un VIP insomma allora quanto abbiamo? vediamo quanto ti do ti do altri tre minuti tantissimo allora tre minuti per tre thriller visto che ne parlo poco dei thriller quando vengo qua un minuto e mezzo allora faccio veramente solo titolo e storia Michael Connelly La legge dell'innocenza Michael Connelly è piuttosto conosciuto direi ha venduto qualche migliaio di libri ovviamente era un ironico per dire qualche milione di libri e è ritornato con The Cadillac Lawyer è stato fatto l'avvocato in Cadillac non mi ricordo come si intitolasse il film con Matthew McGonaghy però è più o meno così e ritorna con questo nuovo libro con questo protagonista e io sinceramente ormai quando leggo il libro con questi protagonisti mi vedo la faccia di McGonaghy perché secondo me l'ha interpretato veramente bene la cosa particolare di queste storie di questo autore con questo protagonista è che veramente questo avvocato vive nella sua Cadillac e la usa quasi come suo ufficio e quindi è una cosa divertentissima è sempre in Cadillac e sempre in giro con la sua macchina via uno Ilaria Tutti che luce della notte che arriva Ilaria Tutti è una delle scrittrici di thriller italiane Noir vive in Friuli Venezia Giulia quindi anche questa cosa è una cosa molto strana di solito da quella regione non arrivano moltissimi schi scusa non arrivano moltissimi autori e lei invece sta avendo un buon successo in Italia e un discreto successo anche all'estero in Europa in particolare sta per essere tradotta anche in inglese anche con questo terzo titolo terzo titolo con la protagonista Teresa Battaglia Luce della notte io non l'ho ancora letto ma lo leggerò quanto prima e ve lo suggerisco Allora aspetta fermati allora quello che ha fatto Anto adesso cioè portare molti libri e riuscire a parlare di meno libri è quello che fanno tutti gli appassionati di libri addirittura quando li comprano comprono un sacco di libri e poi non riescono a leggerli questa è la malattia dei libri allora io non lo so se augurarvi di essere in qualche modo anche se in questo momento c'è poco da parlare di contagi contagiati dalla malattia bella dei libri perché in effetti questo è il risultato cioè il risultato è occhi grandi occhi grandi io ti voglio chiedere una cosa cosa stai leggendo adesso oltre alle cose che stai leggendo per il lavoro e per i contatti e per le interviste che devi fare è una cosa abbastanza ridicola ne parlavo anche mercoledì quando ho fatto la presentazione con Maurizio Marinucci per il suo libro appena uscito Lascia che sia l'amore ultimamente dal momento che sto facendo una presentazione a settimana sto leggendo praticamente quelli che presento per fortuna ogni tanto mi metto in calendario qualcuno che ho già letto e quindi mi si libera una settimana per leggere altro questa settimana ho proprio voglia di leggere questo lo inizierò probabilmente domani perché questo che presento martedì l'ho già finito e questo si intitola il libro delle case e lui è Andrea Baiani di Feltrinelli lo inizierò probabilmente oggi pomeriggio stasera perché mi incuriosisce l'argomento mi incuriosisce l'argomento lo sapevo io mi incuriosisce l'argomento perché parla di un argomento che a me fu caro già quando lo trattò Chiara Gamberale dieci anni fa quando scrisse le luci nelle case degli altri come vedete più o meno il titolo è simile il libro delle case questo libro vuole andare ad approfondire quella cosa quella cosa che è quando siamo chiusi in casa siamo nel nostro regno ma non sempre quel regno è un regno piacevole e quindi andare a scoprire veramente che cosa succede quando siamo lì nel nostro intimo chi siamo veramente che cos'è veramente la nostra famiglia la famiglia è veramente una cosa piacevole sempre la solitudine e quindi questo libro ha un sacco di domande spero che dia delle belle risposte io ne sono curioso e poi vi dirò magari bene allora riassumerai mi auguro tutti questi libri nella tua pagina nella pagina anche di volendo pesa la città che legge perché no io ti dico cosa sto leggendo adesso sto leggendo Rayuela Rayuela di Cortazar che è un libro è un'immersione è un libro incredibile di quelli complicatissimi Rayuela è il gioco del mondo sarebbe la campana il campanone presente infatti il titolo è fatta così se qualcuno vuole vedere Rayuela il gioco del mondo è un libro incredibile ci sono dei momenti in cui non vedi l'ora di andare avanti che è finito e dei momenti invece da segnare da leggere da rileggere perché sono fantastici è un libro scritto da un poeta e questo già la dice lunga tra l'altro con tutta una filosofia sembra neanche tanto basso esatto con una filosofia di lettura stranissima poi perché ci sono lo dice lui all'inizio due modi di leggerlo uno è leggere dal primo capitolo al capitolo 66 e basta e l'altro è cominciare dal 73 e andare avanti a salti secondo uno schema che viene messo all'inizio e quindi quelli tra il 66 e il 73 sono nella seconda lettura li leggi nella seconda lettura e in questa seconda lettura ce ne sono alcuni che non li leggi mai per cui è follia pura non te lo chiedo se me lo presterai perché tanto la risposta la conosco già no perché i libri non li presto però vedremo 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 allora prima di andare in pubblicità e annunciandovi che il prossimo ospite è Paolo Casisa musicista scrittore relatore della storia del rock profondo conoscitore della storia del rock di tutto il rock ma del rock locale ancora di più due libri bellissimi è lì Paolino prima di andare appunto con lui vi do gli esiti del sondaggio tatuaggi sì o no per adesso vince il sì con il 71% e il no al 29% io non ci riuscirei mai a farmi tatuaggio perché mi fa impressione ringraziamo tutti quelli che interagiscono con noi ne citiamo alcuni Claudia, Barbara Gabriele Paolo mi sembrava due fratelli siamo io e Gabriele e Paolo Alma Francesca ricordiamo che il 24 febbraio sarà con noi il nostro esperto espertone in grafologia definirlo grafologo è pochissimo Roberto Bartolini per il quale vi invitiamo a inviare dei brevi scritti dei scritti a mano naturalmente di una decina di righe che verranno poi se volete valutati sui quali poi Roberto farà la sua valutazione grafologica ringraziamo anche Tiziano Donzelli ricordiamo ai musicisti che se vogliono mandarci i loro video li vedranno qua Anto dimmi posso mandarlo anch'io come si manda come no come no adesso allegrati da tutte le coordinate li potete mandare via Whatsapp al numero 351 708 99 77 oppure via mail a casarossini chiotterossinitv.it scrivete un testo lo fotografate bene e poi ce lo mandate e appunto daremo gli esiti e ne scopriremo sicuramente delle bellissime allora adesso andiamo con lo stacco musicale prima di passare a appunto ascoltare che cosa è venuto a raccontarci Paolo Casisa il video è di un rapper pesarese Phil Coy è il nome d'arte in realtà lui si chiama Filippo Filippo D'Ambrosio il video si intitola Guerriero restate con noi perché fra un po' siamo con Paolo grazie Antonio grazie Paolo grazie a voi ci vediamo presto perché noi ultimi saremo ultimi ma primi ad affrontare la realtà e quando tutto poi diventa cenere Filippo D'Ambrosio ho aspettato tanto tempo che con il tuo sguardo fiero tu venissi al mondo ho sognato che il tuo destino meritasse un altro in cielo e che questo sogno diventasse duro Phil Coy sono diverso ma lo stesso da sempre Carpava controcorrente nel cuore contro le assenze su distanze del mondo talmente vuote e deserte poi penso braccia conserte quante sembianze che in fondo la gente prende per niente quanti amici alle spalle senza le palle per dirtele nemici alla caia non vedo l'ora di dartele baby scusami se c'era un verme con te ero fuori di me sia chiaro non per bantarmene io che passo giornate tra fogli sparsi e un vinile io che voglio fuggire io che provo a capire io che ho vissuto la musica ed ho qualcosa da dire ho unito entrambe ma per essere non per apparire e se bisogna soffrire lo farò a testa alta che l'arte qua ha un bisogno e mi trasformo Kafka e quando tutto intorno sarà cenere noi come anime libere senza nulla da perdere e qui si tratta di cercarsi mezzo a passi falsi perdersi e ritrovarsi pulirsi con le catarsi dal buio delle catastrofi chiedo scusa per gli sbagli fatti devo guardare avanti senza stare come tanti sono noti che bevo sotto le stelle che plero sono le stesse che prego che se mettesse da parte le porte spesse collego immagini in pressa e in pieno le taglio poi le collego per ogni verso un siero ci amiamoci tradiremo l'amore mare socieco sarà l'effetto placebo cica tranquilla te chiero penso che poi arriverà l'età vedo quegli anni fa brutto ma adesso capisco il senso che c'ha andavo al mare d'inverno per ascoltarla cicara non passeranno mai giorni quel tempo che ci separa cara ho il cuore di un cyborg lo so qualcosa non va sono un mister nessuno che cerca un soffio di lucidità che con il tuo sguardo fiero tu venissi al mondo ho sognato che il tuo destino meritasse un altro il cielo e che questo sogno diventasse che noi ultimi saremo ultimi ma primi ad affrontare la realtà e quando tutto poi diventa la cultura eccetera ma alle volte ed eccoci abbiamo fatto il cambio benvenuto a Paolo Casisa ciao Paolo buongiorno ciao a tutti buongiorno allora Paolo Casisa è un l'abbiamo definito un esperto di musica ma nasce come musicista per cui è primo musicista artista di strada filologo della musica rock studioso della musica appassionato da sempre della musica scrittore di libri di musica ho detto tutto mi sono dimenticato qualcosa guarda il difetto è che gli anni cominciano ad essere tanti e siccome io ho cominciato a 12 anni a fare sempre la stessa cosa piano piano le cose si sono accavallate l'una e l'altra le idee sono venute man mano allora per presentarti meglio ai nostri telespettatori andiamo a vedere che te sei nato il 21 marzo giusto? esatto il primo giorno di primavera tanto per non sbagliarsi il giorno della chiarezza questa è la definizione del libro il 21 marzo è un giorno di vitale importanza per l'anno segna tradizionalmente l'arrivo della primavera lo sapevamo e rappresenta l'equinozio di primavera eccetera le sue caratteristiche devono quindi essere considerate come primarie nella natura corrispondente alla loro eredità simbolica i nati il 21 marzo tendono ad avere una personalità schietta ed essenziale piuttosto che complessa e ultrasensibile direi che già come inizio poi dopo se vuoi vai avanti a leggere è troppo positivo insomma questo è questo è allora nati oggi Carlo I D'Angio Timothy Dalton l'attore di origine gallese ha interpretato anche James Bond in zona piccolo penso Alda Merini la poetessa la grandissima poetessa e Ayrton Senna per cui direi che insomma a me mi risulta anche Bach anche Bach qui il libro non lo riporta ma diciamo di sì per cui se risulta te chi siamo noi chi siamo noi per dire di no allora coraggioso espressivo diretto sono i tuoi pregi meglio di così per introdurti non si poteva coraggioso schien espressivo e diretto meglio di così me li tengo allora come sentite io ho questo atteggiamento molto confidenziale con Paolo ci conosciamo da un po' di anni e a tal proposito io ho anche mandato a tua insaputa alla regia alcune foto sì sì perché Paolo ha suonato con noi quando facevamo Pesaro Village ed era musicista poi a un certo punto è uscito anche come artista di strada allora abbiamo visto il carretto del brigante tartaglione ancora no no quello era era ancora allora questo è il pifferaio magico poi dopo il brigante tartaglione allora non l'ho trovata una foto perché si vede che l'hai fatto sparire dal web però la carretta è quella la carretta è quella ma è stata soprattutto la tua maggior invenzione secondo me la geniale invenzione Babbo Natale da giovane Babbo Natale da giovane secondo me è l'invenzione più geniale più illuminata più visionaria cioè se uno è vecchio non poteva essere anche passato cioè per me te puoi fare quello che ti pare puoi scrivere i libri puoi fare i concerti per me la tua genialità si esprime in Babbo Natale da giovane punto dopo di quello a Fano diciamo sarai sciapo sarai sciapo esatto allora però oggi noi siamo qui non per rivangare il passato anche se poi hai riempito il tavolo di numeri di Ciao 2001 rivista che conosciamo io e te e qualche centinaia di migliaia di anziani perché il tempo passa quindi effettivamente esatto ne ho anch'io diversi numeri e hai portato anche una copia del tuo libro Pesaro Music Story beh certo perché ricordiamo che tu hai fatto anche l'altro libro anzi sei partito con l'altro ne ho fatti due a Fano ora raccontaci un po' cosa è successo insomma dal Babbo Natale da giovane a tutto il resto questa ricerca che hai fatto della musica la casa della musica il Gimile tante cose tante cose sì beh tutto è nato quando il mestiere di artista di strada cominciava a calare ad un certo punto verso il 2008 2009 sono cominciate a cambiare le cose economicamente in Italia quindi sono saltati tutti anche una buona parte dei lavori quelli minori dal punto di vista dello spettacolo intendo quindi le grandi compagnie continuavano mi ricordo i Folli per esempio era una compagnia di Perugia che faceva arte di strada certo le grandi compagnie hanno continuato a lavorare dignitosamente invece noi piccoli man mano è cominciata a calare tanto e allora come mi è capitato tante altre volte nella vita perché in pratica io mi sono sempre inventato qualcosa dire che io faccio un mestiere certo cioè il lavoro insomma diciamo sono occupazioni di vario tipo che tuttora magari un piatto in tavola riesco a metterselo ancora però non è stato così semplice nel tempo come si può capire quindi ad un certo punto che collezionavo dischi e incameravo cose che conoscono tutti quelli dei più famosi non so quando o come mi è cominciata a ballenare l'idea di perché non raccontare la stessa cosa che studiavo nell'enciclopedia del rock del jazz che cosa è successo nella mia città certo questo è stato il tarlo che si è insinuato da lì in poi ci ho messo dieci anni di lavoro tutti i giorni la cosa si è sviluppata poco alla volta e in dieci anni ne ho scritti tre di libri l'ultimo è quello di Pesaro perché gli amici pesaresi sull'onda delle prime due pubblicazioni hanno cominciato a tirarti per la giacchetta sei in giacca oggi hanno cominciato a dire oh qui? noi? molto simpaticamente io tre anni ci ho voluto gli ultimi tre anni per scrivere per i miei scrittori che il trittico è completo quindi la mia carriera di scrittore anche perché vogliamo ricordare una cosa che forse adesso può anche sfuggire una volta non c'era subito la voglia di diventare famosi a livello nazionale cioè la identità locale del gruppo musicale che suonava sul posto era molto netta ed era anche già abbastanza sufficiente oltretutto la tecnologia non permetteva oggi quasi quasi noi stiamo dando spazio a dei musicisti locali quasi quasi superfluo dire no? prima abbiamo visto un video di un rapper pesarese però il rapper pesarese è su youtube ha migliaia di visualizzazioni tutto è pesarese solo perché è nato a Pesaro e perché magari ci lavora una volta invece era molto più radicato al punto che te ti ritrovi ad aver fatto il libro di Pano e tirato per la giacchetta dai pesarese che dicono ci siamo anche noi per cui era un microcosmo ben definito di fermenti e di attività che si svolgevano sul territorio o dentro i confini sì nella maggior parte delle volte sì lo spirito e l'attitudine maggiore dei musicisti è quella di esprimersi a prescindere se guadagni due lire o se guadagni due miliardi ma è così anche per i grandi certo immagino e poi sembra banale dirlo ma i grandi i grandi musicisti per forza hanno cominciato esattamente come quelli che non arrivano da nessuna parte in uno scantinato con una chitarraccia è così i 4 di Liverpool a Liverpool erano la caverna c'era 30 persone dentro non è che se ne erano più dopo è successo qualcosa però quindi idealmente il percorso per tutti ed è questa la cosa abbastanza interessante adesso mi vorrei allargare troppo però a livello nazionale come format questa cosa è molto interessante perché in pratica mostra come migliaia di musicisti che contemporaneamente all'esplosione del fenomeno musicale in tutto il mondo le stesse canzoni le suonano in maniera contemporanea cioè nel 63 è uscito il primo il primo 45 ciri dei Beatles nel gennaio del 64 a Fano c'erano tre gruppi che facevano quel disco lì certo cioè non c'era nemmeno in Italia quel disco lì l'hanno sentito in radio cioè è pazzesca questa cosa se ci pensi perché i mezzi non c'erano ma i musicisti hanno sempre trovato un modo per accapparrarsi il meglio e riproporlo insomma amplificare fare da ripetitori quindi è molto interessante come esperimento sia Fano Music Story che Peso Music Story per come dimostrazione che la musica moderna a livello globale si sia ripercorsa ripercorsa anche nei piccoli centri contemporaneamente certo è formidabile era tra l'altro l'unico modo appunto per avere la possibilità di sentire qualcosa che non arrivava da oltre maniche da oltre oceano perché le radio non esistevano il filtro era forte addirittura in certi casi forse veniva osteggiato perché fino a Arbore e a Per Voi Giovani la radio nazionale ostacolava la diffusione di un certo tipo di musica proprio ieri ho postato un ricordo di Per Voi Giovani è del 70 del 70 la prima trasmissione prima c'era Claudio Villa Nilla Pizzi Minoreitano Peppino Gagliardi soprattutto andava bene che ci fosse quello il problema è che non c'era altro questo era quello che succedeva in America e in Inghilterra noi ragazzi fanesi pesaresi abbiamo dovuto aspettare le radio che ce lo dicesse perché chi ce lo si diceva le prime radio ricordiamo dopo Arbore per Voi Giovani e tutto quello che ne è seguito le prime radio sono del 76 e dopo lì c'è stata poi con le radio libere semplice perché noi facevamo le radio libere pure tu tu avevi un centinaio di dischi li portavi e li facevi sapere agli altri esatto e poi si sceglievano al volo sulla base dei gusti personali e tutto il resto questo ha contribuito molto e poi la prima cosa la cosa straordinaria era anche che i dischi mandati nelle prime radio locali erano di ragazze che andavano fino a Cesena a comperarli non li trovavi mica pesero i dischi di importazione le escursioni a Cesena a Bologna a Milano Bologna a Nanucci era quindi il ruolo che non erano ancora i DJ il ruolo dei ragazzotti dentro le radio private con i cartoni delle uova è stato fondamentale per divulgare la musica che poi veniva presa dai musicisti quelli che magari intorno ai negozi di musica ai negozi di strumenti musicali eccetera nascevano che si formavano e che riproponevano dal vivo te hai fatto un'operazione che poi Rossini TV ha proposto diluita in otto settimane che nasceva proprio per ricordare suonandola però perché un conto è parlarne di musica ma un conto è poi suonarla suonando dal vivo in un lunghissimo concerto o più di uno quanti erano? no no uno solo un concerto duecento venti minuti per cui insomma è durato abbiamo cominciato alle sette e mezza del pomeriggio e finito a mezzanotte in punto e dalle parti di Springsteen sei come durate più o meno no quello è accaduto grazie all'amministrazione comunale che un anno dopo l'uscita del libro a Pesaro a Pesaro il 17 luglio del 2017 il libro del 16 ok sì in pratica ho messo un anno per organizzarlo perché non è stato tanto semplice certo l'operazione è stata questa ho chiesto a tutti quelli raccontati nel libro sono tantissimi chi vuole suonare dal libro mi serviva sarebbe stato bello una rappresentanza degli anni 60 70 e 80 li ho trovati tutti erano otto gruppi che si sono avvicendati con gli ho dato un massimo di espressione di 20-25 minuti in modo che tutti quanti potessero avere il loro spazio e durante il soundcheck mi sono accorto che il service non aveva portato una telecamera erano le 6 del pomeriggio mi ricordo ho detto al capo vai a prendere una telecamera ce l'hai una telecamera l'ha montata un quarto d'ora prima di andare in scena con Vimini l'assessore che ha fatto la presentazione del concerto e quella telecamera fissa puntata sul palco è stata lì non era programmata l'ho voluta io all'ultimo momento è andata già bene ma da mangiarsi le mani di non averne montate 3-4 esatto non c'erano i baci è certo è anche un fatto no no è chiaro è chiaro allora quando sono andato a riprendere il filmato della telecamera era agosto quando l'ho presa ci sono volute tre ore per riversarla perché è saltata fuori un file MOV di 121 giga tutto intero però nessuno ha saputo convertirmi quel file prima di tre anni ah beh per un anno ci ho provato in tutti i modi poi alla fine mi è venuta l'idea l'estate scorsa l'estate scorsa mi è amica del nostro amico comune il regista degli sbancati Erice Chiaroli Erice Chiaroli ho chiamato Henry ho detto se non ce l'ha lui in una macchina potente monta i film da cinema in un'ora me l'ha fatto benissimo tre anni esatto questa è la storia di quel film a questo punto però è diventato ancora più storico perché magari se lo mandavi in onda subito forse era troppo di attualità invece così diventa storico nel prendere e far diventare attuale ma già storico tutto quello che è la storia della musica pesare esatto tu parli di trittico io mi sono perso uno allora c'è pesaro fanno music story uno ah uno e due aspetta fanno music story punto ed è la storia dagli anni 30 fino alla fine degli anni 70 poi fanno music story due punti la musica degli anni 80 e lì c'è i gruppi e i solisti degli anni 80 più le radio libere e più i dj tornando leggermente indietro certo e poi c'è pesaro music story allora io prima di andare in onda ti ho fatto una domanda logica quella che in questo momento stanno facendo tutti a casa no anche perché siamo in chiusura e gli è venuta sicuramente la domanda dove lo troviamo il libro dove lo troviamo il libro a casa mia due copie e basta due ma sarà allora cosa sei venuto a fare a raccontarci cosa che ci sono rimaste due copie solo ne parlavamo ne parlavamo poco fa esatto la regione Marche che ha dato un ingente contributo per la pubblicazione del libro a fronte dell'investimento ha incamerato 350 copie del libro che non so se sono state date tutte o probabilmente però sono nei depositi bisognava chiedere a Nicola Baiochi nella prima parte della puntata eh vedi però fa la sanità lo recuperiamo va bene ma le regione dopo trovano trovano però comunque sia la regione ne ha fatto l'avrà mandato a tutte le biblioteche delle Marche quindi è un ruolo importante quello delle regioni è stato Paolo il tempo è volato ti do un minuto per dirmi perché mi hai portato tutti questi numeri di Ciao 2001 ah è semplice quello fa parte del mio progetto attuale pazzo ah ah vai dunque brevissima storia di Ciao 2001 primo numero del 69 ultimo numero del 88 sono 1200 numeri questo è il numero 1000 ok no? e grandissima importanza perché nelle pagine del libro c'è la storia della musica moderna ma quando è uscita come dire è uscito The Wall dei Pink Floyd e lì c'è quello che scrivevano i critici ancora prima che noi ragazzi lo ascoltassero esatto capisci che cosa vuol dire massimo dell'attualità ma poi non solo lì le ho lette tutte le collezioni che ho ne ho otto anni quindi dal 70 all'83 io li ho letti tutti ci sono un sacco di gruppi di cui nessuno ha mai sentito parlare eppure sono lì recensiti perché non so se ti ricordi ma in quegli anni chiunque faceva un disco decente andava su Ciao 2001 ah sì sì certo cioè era una una grande potenza di raccontami il progetto velocemente se no non ce la facciamo ho scansionato in pdf in alta definizione 452 numeri di cui le annate complete dal 76 all'83 più metà 71 metà 72 metà 75 74 poche cose l'obiettivo è quello di metterle in condivisione nazionale proponendolo a Pesaro città della musica giusto quindi il 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 circuito delle biblioteche può essere una collaborazione tra Fani e Pesaro questa è una cosa di tutti perché è impegnativa la cosa serve un portale e bisogna pagare i diritti dell'autore perché 30 anni scadono hanno 30 anni la casa editrice la è di press l'ho già visualizzato qual è però immagina tu vai in un portale e trovi tutti questi presenti i film americani dove uno cerca la cosa e scorre invece dei microfilm abbiamo i pdf 30.000 pagine scansionate da me negli ultimi tre anni 800 ore di lavoro fino adesso capito cosa succede quando un artista di strada decide di non stare più sulla strada pericolosissimo si inventa cose da stare seduti dentro casa davanti allo scanner che lo impegnano ancora di più in più ho lanciato una specie di appello che chi ha dei numeri io te li porto no quelli che mancano ti dirò quelli che ho così almeno eventualmente va bene perché prima o poi spero che qualche amministrazione appoggi questo progetto e poi si va non è che ci vuole tantissimi no direi di no e direi che è molto interessante Paolo è volato il tempo oggi sicuramente mi redarguiranno mi rimproveranno hai troppo? no mi rimproveranno a me perché vado un po' lungo ogni tanto e allora mi sono impegnato ma quando faccio cose che mi appassionano chiaramente mi sviluppo però è andata bene abbiamo detto tutto quello che volevamo dire sicuramente altre cose le diremo ma non mancherà l'occasione e allora ringraziamo Paolo Casisa che è stato con noi a raccontarci dei suoi progetti che ha fatto e di questo progetto nuovo interessantissimo se avete numeri di Ciao 2001 nell'armadio mettetevi in contatto con Rossini TV o con Paolo Casisa lo cercate per dargli la possibilità di scansionare poi dopo ve li ridà perché una volta scansionati assolutamente no non solo li ridò e gli do le collezioni che vogliono ecco ce ne ho otto di collezioni meglio di così una meraviglia allora prima di lui Antonino Di Gregorio consulente editoriale Parole d'Arancio prima ancora Nicola Baiocchi consigliere regionale si conclude questa terza settimana di febbraio il tempo vola grazie a tutti per essere stati con noi Ali mi sono dimenticato niente non mi sono dimenticato niente grazie e restate sempre all'ascolto dei programmi di Rossini TV non perdetevi nessuna delle repliche e nessuno degli altri programmi e proposte che vi arrivano dal canale 633 e da tutti gli strumenti in streaming grazie buona giornata buon fine settimana a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.